Giorno, Orchidea di Milo Sola, Orchidea di Medicina per l'Anima Vi ricordo sempre i libri, adesso non ve li faccio vedere tutto, li sapete già mai tutto Comprateli, leggete e fate la buona recensione su Amazon, adesso ce ne sono sette libri Orchidea storia e personaggi in quattro edizione, che è quello grande Poi ce ne sono quattro piccoli, anzi otto con l'ebook Quattro piccoli che sono della collana Orchidea di Medicina per l'Anima che sono uno, le Pharaenopsis, due, Cateria di Milo Bevanda Tre, le Orchidea degli Scemi, quattro, Orchidea di Medicina per l'Anima Poi l'ultimo che adesso è uscito sabato, Nebook Orchidee a Amore Psiche che sarebbe per le Orchidee a Lunanima Ieri abbiamo fatto anche un video su questo argomento qua, ogni tanto ne parliamo qualcuno per i vari punti che mi hanno postato qui Poi c'è i due, Pensieri Notturni in Ordine Sparso, numero uno e numero due che non è proprio sull'Orchidee ma è un po' sulle mie storie che vi racconto ogni tanto Allora oggi facciamo delle giattele di Sigmato Stalix Questa è la Sigmato Stalix radicas Adesso dico qualche giattele appena fatto Questa è una pianta grande, vedete Questo è un giatterone, è grande così, vedete, è un proticeno di erba In effetti sembra proprio un proticeno di erba E a fine estate, diciamo agosto, settembre così Si riempie di orchidee profumate, sono delle piccole orchidee grandi un centimetro che sono bianche con la bella verde Hanno anche un po' di profumo E è una pianta che è molto bella che quando non è fiorita Adesso facciamo vedere per le giattele Allora, noi usiamo queste giattele qua E mettiamo un po' di spagno sotto la giattele Nel caso qua della Sigmato Stalix ne mettiamo un po' Ci sono certe giattele se ne mette di meno Ci sono certe giattele se ne mette di più Allora, qui ne mettiamo un po' sotto Un po' sopra Così Appunto nella Sigmato Stalix siamo abbastanza abbondanti Non ha problemi di... Allora, adesso Lo leghiamo così Noi usiamo questo filo qua Si chiama piattina È una cosa di plastica piatto Con dentro un filo di ferro Che però non taglia Perché tanti usano fili di nylon Tipo quelli da pesca e così Però si rischia di tagliare Invece questo non taglia perché ha piattito Allora, lo facciamo dare un giro sotto E uno sopra così Poi questa è la potenzialità che si fa così È legato, non lo corre più orientato Andiamo via il filo in eccesso Ecco Adesso io d'estate quando fa molto caldo Mi metto qua fuori all'ombro È una caronata con la bella aria che gira Mettiamo qua, poi le prezziamo tutte E poi le portiamo dentro Poi c'è questa qui Questa qui, vedete? Questa è la vecchia zattera Che la piatta... Porco cane! Vabbè La piatta è inglobata tutto Ormai la zattera non si vede più, vedete? È tutto pieno pieno Cioè, con gli anni Da così La piatta è inglobata tutto E quando è fioretto è anche abbastanza particolare Tutto sta roba qua così, no? Ecco, comunque le zattera Vedete, è una cosa che è molto semplice da fare Bisogna preparare prima le zattera Fino di ferro, lo sfagno Ecco Io D'estate adesso Perché dentro col caldo Mi vado subito in crisi Qui fuori mi metto qua Fuori all'ombro Perché se no io pomeriggio Sono terra Invece questo proprio bene Ne faccio un sacco Ecco lo sfagno Che ogni tanto va Vabbè Le zattera È il modo migliore Per coltivare la città Perché loro in natura Vivono così Vivono sugli alberi così E le zattera È il modo più pratico Per Più naturale Per tenerle Ecco Ok A domani Sì Sì Grazie.